Fughe di primari, pazienti costretti ad andare su e giù per la provincia per visite ed esami. E' una situazione pesantissima anche per quanto riguarda il personale infermieristico. A puntare il dito contro l'Ulsset e Pedemontana è anche il sindacato degli infermieri Nursing Up. Nella Pedemontana c'è in atto un confronto, io credo che questo confronto debba portare a qualcosa. Io mi auguro che la dirigenza ascolti le ragioni del personale sanitario un po' di più di quello che non ha fatto fino ad ora. Qualche esempio? Eccone, uno fra tanti. Per esempio l'organizzazione delle ostetriche che vengono spedite ad Asiago in pronta disponibilità a sopperire le carenze di Asiago, situazioni come queste non devono esserci. Situazioni che per il sindacato non devono esserci, in un'azienda che deve tornare per i rappresentanti della categoria sotto la lente d'ingrandimento di che gestisce la sanità in Veneto. Bisogna che l'azienda e la regione insieme pensino a qualcosa di più significativo per far fronte alla sanità anche dell'Ulsset. Ecco cosa chiede il Nursing Up alla regione per l'azienda sanitaria diretta da Carlo Bramezza. Che ci sia veramente un abbassamento del ricorso all'attività dello straordinario del personale sanitario. Abbiamo un incontro a breve, mi pare il 10 di maggio, per discutere di questa questione perché non dobbiamo rasentare l'eccessivo sfruttamento del personale per le carenze del sistema.